un po' di spazio alla presentazione della stagione credo che ci siamo, sta per partire la nuova stagione così la mettiamo anche un po' sia in radio per iscritto poi adesso stiamo anche preparando un riferimento sui nostri siti proprio per dare così un'indicazione su quello che sarà il nuovo palinsesto che partirà proprio da lunedì lunedì 19 si ritorna un po' al completo e partiremo con a tutta Cia alle ore 10 quindi ci sarà una trasmissione live che partirà alle ore 10 quest'anno abbiamo scelto di non partire con la rassegna stampa abbiamo fatto un cambiamento quindi all'ore 10 è tutta Cia che avrà un doppio appuntamento nel nostro palinsesto uno dalle 10 alle 11 e l'altro dalle 17 alle 18 ti vedrà Potragonista insieme a Cristiano Cesarini per quanto riguarda la fascia pomeridiana mentre la mattina ci sarà Luca Calamai con la redazione di Tutto Cia che apriranno la mattinata di Tutto Cia è un contenitore che ci teniamo tantissimo perché fa questa estate grazie al lavoro veramente di tutta la squadra di TMU Radio abbiamo sentito tante voci di un calcio che forse ha mantenuto quell'aspetto passionale che manca in Serie A abbiamo sentito tanti direttori sportivi tanti tesserati calciatori presidenti continueremo con questo tipo diciamo così di strada perché è una scelta che abbiamo fatto e che pensiamo che possa portare dei risultati importanti per far conoscere delle realtà che diciamo così non sono curate e soprattutto delle belle storie come quella che abbiamo sentito ieri del difensore del Trento che ci ha anche raccontato che la sua passione sarebbe quella un domani di diventare giornalista sportivo però di calcio mercato gli piace molto il calcio mercato delle storie incredibili di calciatori di società di presidenti di direttori sportivi abbiamo veramente quest'estate passato da segno a tantissime situazioni poi dalle 10 alle 11 dicevo si apre così poi dalle 11 invece alle 11.30 torna l'editoriale con Vincenzo Marangio in questo caso si alterna anche quando non c'è con Alessandro Santarelli alle 11.30 riparte Rotocalcio che ormai è il contenitore che consueto che conosciamo che è un giro con la redazione di tutto il mercato web poi con tutta una serie di inviati poi Valneri con i suoi approfondimenti e poi tanti ospiti che insomma si susseguono nel corso della mattinata alle ore 13 arriva Maracanà io e Stefano torneremo proprio lunedì a partire dalle ore 13 dalle 13 alle 17 quest'anno ci saranno delle novità inseriremo oltre al match analista agli allenatori anche un osservatore Marco Palma che è veramente bravo bravo ve lo dico ci presenterà tanti calciatori soprattutto in occasione delle coppe quindi Champions Europa League Conference League lui ci presenterà molto spesso dei giovani giocatori che magari possono incrociare anche le squadre italiane quindi occhi puntati su questi calciatori con Marco Palma un tempo avevamo il grande Gianni Di Marzio oggi abbiamo scoperto il talento di questo ragazzo veramente molto 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 bravo e poi avremo i soliti che ci accompagneranno con il lunedì i nostri top flop i 30 secondi con Niccolò Ceccarini Daniele Garbo Massimo Bonanni Antonio Di Gennaro Massimo Orlando e poi ci sarà anche attenti a quei due con Massimo Brambati e Stefano Impallomeni non mancherà il direttore De Paola non mancherà il super portierone Simone Braglia e poi altre novità che scoprirete in corso d'opera insomma quest'anno sarà un po' un modificare dai non anticipiamo esatto alle 17 torna appunto a tutto ci e poi vi ricordo altri due appuntamenti importanti che cambiano orario Guelfi e Ghibellini ci sarà il giovedì dalle 18 alle 20 che è calcio e non solo con Susanna Marcellini e tutti i suoi ospiti e poi avremo un'edizione particolare il venerdì di Maracanà è sempre Maracanà però al femminile dalle 18 alle 20 quindi un Maracanà al femminile con Susanna Marcellini e diciamo degli opinionisti giornalisti femminili insomma che commenteranno un po' quello che diciamo noi e le loro idee insomma è una versione che vogliamo provare a fare diversa rispetto dal consueto diciamo Maracanà che conoscete non vi perdete naturalmente Home Scouting lunedì il TNV News come sempre che rimarrà a chiudere tutte le nostre giornate e poi Motor Valley che già riprende la prossima settimana è in concomitanza naturalmente delle prove mondiali di MotoGP e Formula 1 con me e Daniele Petroselli grandissimo competente e tanti ospiti che si diciamo così che intervengono non mancheranno storie di calcio insomma questo sarà un po' il palinzesso il sabato e la domenica lo dico da subito la scelta di quest'anno è stata un po' quella di far rivivere un po' il meglio della settimana e poi quando ci saranno degli eventi particolari delle partite delle sfide interessanti vi proporremo insomma l'evento live e questo è quello che abbiamo così in serbo quest'anno